Ora c'è un nuovo e delizioso modo per aggiungere gli Omega 3 e Selenio ai vostri pasti. Vi presentiamo il gusto irresistibile dei formaggi naturali silani con Omega 3. Gli Omega 3 vi aiutano a mantenere una buona salute. Se siete giovani o giovani dentro, contate sul buon gusto dei formaggi naturali silani con Omega 3 e Selenio. La vostra famiglia vi ringrazierà. Grazie a tutti.